Sono Chiara Coltri e sono il capitano della squadra di basket in carrozzina dell'Università di Padova. Siamo la prima squadra universitaria in Italia e siamo qui oggi perché vogliamo lanciare questa campagna di raccolta fondi per appunto comprare del materiale che serve alla squadra. Quando parliamo di materiale noi intendiamo carrozzine da basket. Le carrozzine che utilizziamo per giocare sono delle carrozzine sportive e molto costose. Sono diverse dalle carrozzine che utilizziamo tutti i giorni per spostarci. Queste carrozzine oltre ad avere un costo hanno bisogno di una continua manutenzione per rendere al meglio appunto. E quindi noi ne abbiamo estremamente bisogno. La campagna sarà lanciata sulla piattaforma Tribune dove ci saranno anche all'asta del materiale dei giocatori di serie A della Griss in Bon come De Nicolao e i suoi compagni. Quindi chiediamo a tutti di collaborare e di darci un piccolo contributo perché per noi è ovviamente fondamentale e molto importante. Per l'Università di Padova lo sport è molto importante perché è un momento di aggregazione, un momento di vita insieme al di fuori di studio e lavoro in cui studenti e docenti si ritrovano in un momento gioioso. Il progetto Basket in carrozzina del CUS è un grande e bellissimo progetto perché è un progetto di inclusione che permette di superare le disabilità in un momento di sport, quindi in un momento di svago e di salute. Il limite a donare è forte e caloroso perché ogni momento di allegria che questo progetto donerà sarà l'allegria di chi parteciperà ma anche di chi ha donato. All'inizio io che ho fatto sport, uno dei primi mesi che si giocava, sono andato a vedere un allenamento e i ragazzi mi hanno detto, Presidente prova a sederti su una carrozzina e a giocare. E devo dire che è stato un impatto che mi ha fatto capire che ovviamente questi ragazzi ce la mettono veramente tutti perché c'è uno sforzo fisico notevole, c'è un impegno notevole, c'è una dedizione particolare ed è incredibile rispetto a quello che è lo sport normale. Vi aspettiamo su Tribune.com e continuiamo a sognare insieme in grande. Ciao!